Mi manca tanto, non posso farne a meno. Dio come sono infelice. Dio Francesca, cosa c'è? Lo sai benissimo cosa c'è! Allora, quali sono i sintomi? Dottore, nostalgia. Da quando è tornata da Sbandando non è più la stessa. Cos'è Sbandando? Cosa? Ma come non conosci Sbandando? La passeggiata tra i luoghi più tipici e suggestivi di Pederoba. Quest'è enogastronomica lungo il percorso. Sbandando Pai Colmei. La passeggiata enogastronomica tra i luoghi più suggestivi e caratteristici di Pederoba, organizzata dalla banda musicale. Come tutti gli anni, il primo maggio. Come ogni anno? Ma allora c'è anche quest'anno. Sbandando Pai Colmei. Per me è il numero uno. È veramente la quinta edizione. Vieni anche tu a Sbandando. Ti aspettiamo! A Pederoba il primo maggio. Sbandando Pai Colmei.